Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà. Buon poveriggio a tutti, benvenuti a questa nuova puntata e sono contenta di presentare oggi Paolo Di Paolo con il suo romanzo Senza Umani. Eccolo di qua, Paolo Di Paolo. Sì, un nome già che è memorabile, anche se poco fantasioso. Come mai Paolo Di Paolo? È una storia che s'annoda a destini familiari, in cui sembra che a un certo punto il binario del nome sia quello. Non ho protestato più di tanto. Non potevi? Non potevi, non potevi. Posteriori, no, potevo anche così fare le mie rimostranze, perché negli anni di scuola, quando facevano l'appello, tu immagina cognome e nome, quanta ilarità produceva. Poi ho pensato che era un vantaggio, quando ho cominciato a sentirmi chiedere se era uno pseudonimo, un nom de plume, un nome d'arte, ho detto vabbè, allora suona e tutto sommato si ricorda. Poi facendo uno scrittore. Di Paolo Di Paolo, devo dirti che il tuo libro mi ha, a parte scrivi benissimo, non te lo devo dire io, ok, ma il tuo libro mi ha colpito molto perché proprio il titolo, cioè Romanzo senza umani. Allora, tendenzialmente un romanzo, si dice romanzo perché è scritto da qualcuno. Romanzo senza umani che cos'è? È un paradosso? È un paradosso, è un paradosso che forse poi smentisco proprio scrivendo, cioè mi ero appuntato, era l'estate del 2020, quindi credo che la pandemia debba avere determinato qualche movimento mentale, mi ero segnato su un quadernetto con la matita una domanda, si può scrivere un romanzo senza umani? Chiedendomi se poi si potesse costruire una storia priva di presenza umana e mi rendevo conto, a pagina 3 effettivamente raccontava un paesaggio raggelato, un paesaggio spettrale, di tardo 500, pieno di neve, pieno di ghiaccio, senza nessuno, ma oltre a pagina 3 facevo fatica a non trovare una presenza umana che mi portasse avanti nella storia. E questo è una dimostrazione del fatto che sì, puoi inventarti tante trame, tante vicende, ma poi c'è un ricondurti della scrittura a un tratto umano, cioè necessariamente. Perché tu puoi anche dire, come dico all'inizio del libro, in assenza di occhi umani, ma poi in realtà c'è l'occhio mio che guarda e racconta, ma quindi questo sembrerà ovvio, ma è anche incandescente ed è bello pensarlo, no? Cioè l'idea che scrivere, i libri che abbiamo intorno, sono delle scimmie che sono i nostri, come dire, immediati progenitori, ma seppure loro hanno il linguaggio e il gesto, la scrittura per ora è solo degli umani. Esattamente, e io sto analizzando il tuo libro, analizzando il tuo libro mi colpisce anche questa, questa foto. Questa foto sei tu? Sì, sono io di spalle. Sei tu di spalle e c'è il lago. C'è il lago. Allora, quanto di te c'è nel personaggio e quanto invece è inventato? Guarda, quella foto, tra l'altro, devo dire che l'editore era un po' perplesso inizialmente, no? Perché di solito la faccia dell'autore è la faccia dell'autore. Certo. Ho detto, ma io voglio essere un po' diverso, dare l'impressione al lettore che quell'uomo che cammina di spalle sul lago sia insieme il personaggio e lo scrittore. È evidente che questo personaggio, tra l'altro, l'ho spostato in avanti rispetto a me. Io ho compiuto da poco 40 anni, il personaggio me lo sono immaginato un po' più avanti nella linea del tempo. Diciamo quella che chiamiamo mezza età, che non sappiamo bene dove comincia e non sappiamo soprattutto dove finisce. È un tempo lungo, no? Stai attentissimo. Stai attentissimo, hai davanti una donna di mezza età. No, no, ma io sto per cascarci dentro, quindi non posso difendermi. Però voglio dirti che è chiaro che gli ho prestato delle domande, probabilmente delle piccole ossessioni, neanche forse troppo piccole, ma l'ho rimodellato naturalmente in una finzione, chiaramente. Semmai quello che è più vero in assoluto è proprio il camminare intorno a quel lago. Perché quel lago io l'ho esplorato, in qualche modo circunnavigato, sono andato almeno quattro volte e volevo che il lettore sentisse che quei luoghi non erano inventati ma erano reali. Esattamente. E il fatto che, questa è una mia idea, magari appunto non c'entra niente, ma il fatto che sia anche lui protagonista di questo libro? Sì, è così. Ha senso o è un... Perché sai, poi il libro lo scrivi tu, ma nel momento in cui lo leggo io divento un po' di ognuno di noi. È di tutti e secondo me ogni lettore lo riscrive, per certi versi, quindi può prendersi tutte le libertà, ogni lettore, ogni lettrice. Però sì, credo che il protagonista sia tanto il personaggio quanto il paesaggio. In questo romanzo davvero il lago non è qualcosa di inerte, non è un fondale, ha un temperamento, ha un inconscio addirittura. Ecco, quindi c'è un doppio piano di narrazione, c'è una narrazione che è legata allo spazio, è legata ad un periodo storico, il protagonista è uno studioso, uno storico, che si occupa appunto specialmente di un'epoca nella storia moderna che è denominata piccola glaciazione. Ed è questo lago di Costanza che in periodo 1572-73, insomma, è appunto ghiacciato. Ma poi c'è anche una sorta di congelamento di quelli che sono dei rapporti, delle emozioni del protagonista. Sì, credo che lui, il fatto che in qualche modo abbia dedicato due decenni della sua vita almeno a studiare quel lago congelato, quindi se vuoi un piccolissimo dettaglio nella storia del mondo, ma questo succede agli studiosi, che siano di marca scientifica, che siano, in fondo si ossessionano e si fissano su un dettaglio e restano là magari anche per tre quarti di secolo, insomma. Non è che mi sorprenderebbe, insomma, che uno dedicasse addirittura un'intera vita a una singola cosa. Però il problema è che poi se tu ti dedichi a una singola cosa e alzi lo sguardo dopo un po', intorno a te forse il paesaggio per l'appunto è cambiato. E dove stanno tutti? Non stanno lì ad aspettarti? Probabilmente. Dunque il mondo si muove intorno a te e tu non ti sei mosso mai. E questo fa sì che il personaggio voglia riconvocare le presenze della sua vita, perché si sente forse anche un po' attanagliato da una certa solitudine, da un certo disorientamento che nasce proprio dallo spopolamento della sua esistenza. E come dicevi tu, forse l'uomo in ghiaccio è proprio lui. E' quello che ha vissuto una zona di congelamento. Io penso che tutti abbiamo una porzione di ghiaccio dentro, che potrebbe restare pure intatta per tutta la vita. Qualche volta invece senti qualche scricchiolio, l'inizio del disgelo, ma non è detto. E la fatica che fa il protagonista? Ma è stata la tua fatica quella di cercare di far ricordare qualcosa di te in maniera diversa da come presumevi che le persone l'abbiano vissuta? Non ci ho mai fatto i conti in modo pratico, cioè non avrei mai fatto quello che il personaggio fa, e per dirlo a chi non ha letto, ovviamente questo non so, scrive mail a gente che non sente da 15 anni, fa telefonate assurde nel cuore della notte a qualcuno, piomba nel giardino di casa. Ha dei conti in sospeso che decide lui, secondo il suo tempo, di cambiare il piede. Anche un po' comico, patetico se vuoi perfino. Però tante volte ho pensato, e se adesso dovessi ricontattare quella persona e chiederle, ma che ti è rimasto in mente di me, di noi? Beh insomma ho spinto il pensiero lì e mi sono anche spaventato. Quell'aspetto infatti è quello che a me mi ha colpito, perché prima di intervistarti, io ho fatto una piccola recensione sul tuo libro, partendo proprio da quel presupposto, cioè da quello che secondo me, almeno a me è arrivato come il fulcro del libro, cioè che cosa rimane agli altri di noi, molte volte involontariamente. Soprattutto involontariamente. Soprattutto involontariamente. Perché noi vorremmo essere ricordati in un certo modo, e presumo che tutti, questo veramente 99 su 100, preferiremmo essere ricordati bene anziché male. Certo. Però quello che noi lasciamo, adesso togli il bene e il male, agli altri, nella testa degli altri, nella memoria degli altri, non è quello che crediamo di aver lasciato. Il più delle volte, se interrogassimo questi testimoni oculari della nostra esistenza, della nostra infanzia, dei nostri vent'anni, dei nostri trenta, eccetera, ricordano qualcosa che qualche volta non ricordiamo nemmeno noi. Ed è rimasta impressa, affolgorato, diciamo, qualcuno che magari abbiamo anche perso di vista, e non potremmo mai saperlo. Perché io dico, ma insomma, in quella ragazza lì, che poi a un certo punto ha amato in quel periodo, è rimasta sicuramente quella cosa lì. Se andassi a chiederglielo, quella cosa, come succede in un episodio del libro, in cui dice, quella sera ho provato a baciarti, e lei risponde, ma io non me lo ricordo. Esatto. Non me lo ricordo, è traumatico, perché come? Assolutamente. Io me lo ricordo e lei no. Sai io con cosa l'ho notato, con chi l'ho notato? L'ho notato con mia madre. I miei ricordi di come lei si relazionava a me e mio fratello, sono totalmente diversi da quello che lei pensava che mi fosse arrivato. Sì. E quindi io ho avuto tutta una serie di recriminazioni, che lei mi ha detto, pensa che io ho vissuto sempre con sensi di colpa nei confronti di tuo fratello, perché per me mi stavo occupando solo di te. Sì. un'eredità qualche volta addirittura storta, perché tu pensi che appunto sia rimasto quel segno, invece ne è rimasto tutt'altro. E non puoi correggerlo. E non puoi correggerlo. E il protagonista infatti è una sorta di corsa contro il tempo, ma che ormai in qualche modo è difficile da recuperare, tant'è che mi colpisce anche un ricordo che in realtà non è un ricordo, cioè c'è una persona che viene ricontattata in qualche modo e che non ha il ricordo del protagonista. Sì, assolutamente. Lì guarda, ti devo dire che un prestito di vissuto c'è come in tante delle situazioni, Cioè mi sono chiesto qualche volta, e devo dire che quella cosa mi ha talmente perturbato che poi ho mollato il pensiero, no? Di come ci siano nella mia vita persone che io ricordo, ma che presumo invece non ricordino me. E questo non è che mi angoscia più di tanto, però se spingo il pensiero là, la ragazza belga che io chiamo qua di Madrid, in realtà era una ragazza di Salamanca, di cui ero mezzo innamorato nell'estate dei 17 anni, io la ricordo, non mi ricordo il nome, non mi ricordo niente, mi ricordo la sua faccia e i suoi lentiggini, ma io sono sicuro che se adesso le telefonassimo, dicessimo ma te lo ricordi quel ragazzo a Salamanca? No, proprio svanito, scomparso, e non è una cosa narcisistica, è anche proprio la senza, perché potrebbe sembrare una cosa narcisistica, forse in parte lo è, ma è anche questa cosa che dicevi tu, cioè che quello che crediamo di aver lasciato è sempre molto di più di quello che nei fatti forse invece lasciamo, e il mancato ricordo, o il ricordo che contraddice il tuo, ti danno la sensazione che la memoria non la governi, né in te né negli altri, e che ricordiamo le stesse cose ma in modo diverso, ok io ricordo un pezzo, tu ne ricordi un altro, pensa anche solo ai primi quattro anni della nostra vita, cioè di quelli non abbiamo memoria diretta, chi ha assistito alla nostra infanzia sa in più qualcosa di quanto sappiamo noi. Qualche cose, quanto poi è un ricordo effettivo anche quello che abbiamo detto e quanto è un ricordo falso, è un ricordo mediato dalla fotografia, dal racconto altrui, a volte hai l'impressione di ricordare qualcosa che non puoi ricordare, no, una certa estate dei tuoi quattro anni, ma magari è una luce che sta in una fotografia. Ma infatti vedi anche su questa cosa, io sono convinta, quando lo racconto mi dicono tutti è impossibile, io sono convinta di avere un ricordo che mia madre attribuisce ai miei due anni, che ogni volta che lo dico, psicologi, infatti mi dicono due anni, impossibile. Due anni ho questa immagine di questo bambolotto dentro il letto che guarda mia madre e mi dice sì, era per i tuoi due anni, io l'ho messo lì proprio perché tu te lo ricordassi, adesso evidentemente lei me l'ha raccontato e io l'ho visualizzato, ok? Però molte volte credo di aver anche portato avanti io dei ricordi modulati in funzione di quello che potevo tollerare, potevo sopportare, che poi negli anni sono diventati verità. Bravissima, cioè secondo me questo è proprio il punto, anche un altro dei punti intorno a questo tema strano della memoria. Sì, questo libro è veramente un'apertura a 360 gradi. Ma ti può pure scuotere proprio quello che hai detto tu, perché non solo non li puoi correggere, ma qualche volta ti sei fidato di un ricordo sostanzialmente falso che però ti è servito per andare avanti o qualche volta tu stesso ti sei riraccontato qualcosa convincendoti che sei andata così, ma perché serviva a te, serviva a te per non distruggerti, per non sabotarti. Cioè questo ha dimostrazione del fatto che quando diciamo la memoria oggettiva è una contraddizione in termini, la memoria è soggettiva, la memoria non è condivisibile, io posso stare qua tre ore a dirti quello che mi ricordo io di una cosa che abbiamo vissuto insieme, ma non sarà mai la stessa cosa e questa se vuoi desincronizzazione, l'impossibilità di far coincidere le memorie qualche volta è dolorosissima proprio perché ci inventiamo la nostra memoria. I personaggi che tu scegli, le persone che Mauro Barbie va a ricontattare, appunto c'è una ex fidanzata, c'è un amico, gli amici con cui si è un po' complicato il rapporto, c'è un vecchio professore, c'è una ragazza a cui crede di aver fatto in qualche modo del male e anche lì quando tu invece sei sicuro che quella ha un ricordo ostile, ha un ricordo duro di te, vorresti andare a distanza di Agni a dirle scusa, ma ha senso poi con lo scusa detto dopo vent'anni, lo hai detto al momento, perché non credevi forse di aver fatto su... insomma, è un terreno scivoloso e minato e soprattutto rientrare nella vita degli altri per cercare di mettere a posto la memoria che hanno di noi è un passaggio illogico, cioè io credo che questa spinta di Barbie sia votata al fallimento, devi fare i conti col fatto che gli altri ti ricorderanno comunque come tu non puoi e non vuoi essere ricordato, ecco. C'è una parte che mi è piaciuta molto, è a pagina 164 e che credo sia molto significativa appunto dello stato d'animo e di questa contrapposizione o quantomeno no, anzi questa comunione che c'è tra questo lago ghiacciato e questa glacialità che piano piano si scongela, no? Via via mi sembra di riuscire a imitare la disinvoltura altrui, di aver imparato a non essere me stesso ma un corpo anonimo e libero che sperimenta le docce dette emozionali, piogge di diverso colore e intensità e che si porta al viso un pugno di grandine artificiale che si espone alla scudisciata d'aria calda sulla schiena. Ogni passaggio smuove l'umore e i pensieri, così è stato rifletto per ogni accadimento, ogni passo, ogni gesto. La vita dell'epidermide e della psiche è segnata dalle temperature. Il fondale degli anni è questo telone azzurro increspato dai venti, incupito dai nembi. Tutto ha avuto un clima. Tutto ha avuto un clima, sì. Io l'ho pensata questa cosa facendo veramente un percorso di docce cosiddette emozionali, una semplice visita termale, però ho pensato, ecco questo riproduce i climi freddi, caldi, vapori e ho detto il corpo nudo che reagisce a quelle temperature, ma dato come l'improvvisa chiarezza di questo essere gettati nel mondo e di avere a che fare continuamente con dei climi, più o meno estremi. Cioè il funerale di un genitore, il compleanno di un figlio, il primo bacio, una notte disperata, tutto quello che ricordiamo di fondamentale della nostra vita ha un clima. E non te lo puoi dimenticare, non puoi dimenticare se pioveva quel giorno che hai detto addio a tuo padre, quel giorno che hai baciato qualcuno c'era un caldo allucinante, quella primavera che il mondo viveva come primavera e tu vivevi come inverno. Certo. C'è una dialettica continua con quel tempo, non è che occorre essere meteoropatici, io lo sono un po', forse questo conta, però in generale l'idea che c'è un clima fuori e c'è un clima dentro e non è detto che si accordino, anzi più delle volte sono anche... E questo clima, questo lago, perché hai scelto quel periodo, quel lago? Questo è stato un po' casuale se vuoi, nel senso che stavo leggendo per conto mio, proprio in quell'estate della pandemia, una storia del clima. Ovviamente nasceva da interrogativi che tutti adesso abbiamo rispetto agli sbalzi climatici, al cambiamento. A un certo punto leggo di questa era glaciale di cui non sapevo niente, nel cuore della modernità, siamo nel tardo 500, come dicevamo, leggo le temperature che crollavano anche 20-30 gradi sotto lo zero nel cuore dell'Europa e questo lago che resta congelato praticamente per sei mesi alla fine del 500. La cosa mi aveva colpito, perché oggi temiamo il grande caldo e facciamo bene a temerlo, ma in realtà il punto non è né il grande caldo né il grande freddo, è l'estremo climatico. Quello che ci rende impossibile vivere è l'estremo, non è il freddo in sé o il caldo in sé. Allora mi sembrava interessante, se vuoi anche un po' sghembono, portare il lettore, tra i tanti temi su cui si può riflettere in questo libro, a pensare ecco di che cosa bisogna preoccuparsi, dove quello che i climatologi chiamano optimum climatico, cioè una condizione instabile che ci consente di vivere, frana rispetto all'estremo. E quell'estremo freddo, l'estremo caldo non fa differenza, perché tu in certe giornate di 40 gradi soffri tanto quanto puoi soffrire se la temperatura scende meno 20 gradi. Che è anche poi l'estremo, credo, affettivo, sentimentale. Esistenziale, attento, esistenziale. Ma infatti tu che cos'è che ti aspetti nella vita? Ora, puoi anche rimpiangere, dico in certi momenti, qualche cosa che ti ha talmente avvolto e ossessionato, che ti sembrava un clima estremo insostenibile mentre lo vivevi e poi a posteriori lo rimpiangi. Però alla fine la vita non può essere fatta di climi estremi, perché tu devi accettare questa sorta di medietà che copre per fortuna tre quarti della tua vita, se no non vivresti. Cioè il cuore non può vivere, come quando dico l'ipotermia, è perché tu non puoi vivere il troppo freddo, il troppo caldo come costanti. Devi accettare, chiamiamola primavera, che poi è il sogno di tutti, forse la giornata di primavera ti sembra il massimo della perfezione, né equilibrata, né troppo caldo, né troppo freddo, ma in fondo il punto è la medietà, perché non siamo animali che possono stare nell'estremo a lungo e quindi il dolore forte, ma anche la passione incandescente, quella necessariamente poi trova una temperatura diversa. Pensa come sarebbe vivere, lo dico anche un po' scherzando, da innamorati, proprio come si è all'inizio, nei primi sei mesi, per 40 anni. Sarebbe da impazzire, da impazzire letteralmente. Non ce la fai, non è sostenibile una cosa del genere. Quanto sei saggio però, sei molto saggio, anche se non stai ancora a metà. Ancora no, però la letteratura mi ha indecchiato prima. Senti, e mi ha colpito anche molto il personaggio di questa ragazza dell'incidente, un incidente, quindi un qualcosa che appunto ti scombussola il protagonista, che lì per lì ha anche telefonicamente un dialogo non troppo pacifico e carino, però poi dopo c'è un'apertura. Sì. Hai sottolineato bene, secondo me, quello che io volevo. Sono brava? Sì, molto, ma come elettrice straordinaria, perché no, devo dire, proprio sinceramente, non per piageria, ma quando dico incidente, intendo proprio quello che tu, mettendo un po' di enfasi sulla parola, intendevi. Cioè non è solo l'incidente automobilistico, è che la vita è fatta proprio di incidenti. E che spesso noi incrociamo le persone, nei momenti, come dire, in cui non è che siamo proprio la versione migliore di noi stessi. Nel momento in cui becchi quello che ti entra nella fiancata dell'auto, è evidente che tu darai il peggio di te. Intanto in quella circostanza lì, questo poveraccio di Mauro Barbie, gli arriva sto proiettile sulla fiancata dell'auto, è contento di essere vivo, ma intanto comincia a insultarla e a inveire. Poi quando ci pensa a freddo, per l'appunto, dice ma io che cosa ho detto in quel momento? Che immagini ho dato di me? E allora fa qualcosa che non faremmo mai, perché a nessuno verrebbe di richiamare qualcuno con cui abbiamo fatto il CID o che abbiamo preso a male parole durante un incidente, ma in realtà non è altro che una metafora degli incidenti dell'esistenza, dove veramente abbiamo l'impressione, credo di averla per molte circostanze della mia vita, non aver dato la nostra versione migliore. E probabilmente quella è rimasta impressa, così, con una specie di lastra fotografica del peggio di cui siamo capaci. Anche quello non è possibile correggerlo, ma mi piace pensare che, proprio perché è parziale, si possa integrare, quantomeno. Cioè lui fa questo sforzo di dirle, guarda, io sono forse anche quella versione orrenda di me, però non sono solo quello. Quindi se tu dovessi ricordarmi, non ricordarmi solo, se lo facessimo con tutte le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, sembreremmo dei pazzi. Però sai quante volte ho pensato come sono stato sgradevole o... e poi avevo mille motivi per esserlo, come tutti. Però non era il meglio che potevamo dare. Sai, ecco tu adesso stai parlando di questo e in qualche modo stai dando un senso parlato e io lo sto visualizzando a quello che a me capita spesso. Cioè io mi sono resa conto, ma ovviamente a posteriori, che le mie prime impressioni sulle persone sono all'80% sbagliate. Ma io credo che non sia solo per te. Cioè la prima impressione porta fuori strada e spesso ci ancoriamo a quella, che è una pregiudiziale in cui ci accomodiamo pure. Quando uno dice mi sta antipatico a pelle. Ma che vuol dire a pelle? Se tu comunque hai un'impressione negativa di qualcuno, appena tu provassi a rompere, diciamo, quella sorta di filtro, di lente appannata. Mi viene l'esempio dei banchi di scuola, no? Dove tu spesso costruivi amicizie con persone con cui immediatamente entravi in sintonia e magari per 3-4 anni ignoravi qualcuno che ti sembrava proprio fuori dal tuo interesse. Bastava una mezza volta che ci facevi una chiacchierata anche più lunga e dici ma guarda, interessante questo però, no? E l'avevo escluso molti dei rapporti umani nascono o non nascono sulla base di una pregiudiziale. Anzi, paradossalmente poi la sorpresa può essere anche il rovescio di quella che dicevamo, cioè persone che ci sono sembrate sempre così confidenti, così vicine a noi, improvvisamente poi cadono nel nostro disinteresse. A un certo punto come se effettivamente abbiamo spremuto a sufficienza il rapporto. Bravo, è come se avessimo preso tutto quello che potevamo riprendere dal loro specchio. Così succede, però questo traffico dei rapporti umani è una delle cose che ci occupano di più nell'esistenza. Beh, è una delle cose che a me attrae di più ed è quello che in questo libro mi ha preso totalmente la testa e la voglia di leggere era figlio proprio del fatto di capire a che punto lui avrebbe accettato che comunque su alcune cose non possiamo farci assolutamente niente. Allora, a proposito di rapporti, a proposito di silenzi, a proposito di amicizie, io ho un video per te da una persona che ha letto il tuo libro e che ti conosce molto bene. Uno degli aspetti che più colpisce da sempre nell'opera di Paolo Di Paolo è la sua straordinaria maturità. Una maturità artistica, narrativa, ma vorrei dire anche una maturità morale nel porre delle questioni che riguardano tutti coloro che attraversano la nostra epoca. E così, a vent'anni dal suo esordio, giunto alla fatidica soglia dei quarant'anni, Di Paolo ci regala questo romanzo senza umani, ma da subito capiamo che l'umanità c'entra e come con questo libro. Mauro Barbi, il protagonista, è uno storico che si interessa a un particolare fenomeno avvenuto nel XVI secolo, quello della piccola, della ciazione, e da questo fenomeno meteorologico comincia a porsi delle domande su di sé. Domande che traslano prestissimo al lettore. Chi sono? Come sarò ricordato? Cosa ne sarà delle esperienze che ho vissuto? Allora, se è vero quello che ha detto Kavieserka, se c'è che il romanzo è il genere delle domande, questo Di Paolo Di Paolo sicuramente colpisce nel segno. Dopo lo ringrazio. Videomessaggio di Iari Selvetella che abbiamo avuto anche ospite in una delle passate edizioni dei libri di Sonia. È un tuo amico. Sì, beh, ci conosciamo come ci si conosce qui, in questo caso non sono tra trascrittori, perché quella conoscenza, quella conoscenza tra scrittori qualche volta può essere davvero solo epidermica e spesso anche ammantata se vuoi di ipocrisia, come sai anche nel mondo dello spettacolo non è infrequente. Nel caso di Iari invece sento proprio una stima profonda, ma per l'essere umano non so come dire, non è che capita sempre. Tu puoi stimare moltissimo qualcuno per il suo lavoro, me lo puoi confermare pure nel mondo dello spettacolo, non necessariamente lo stimi come persona. Qui c'è una sintonia e non è che lo dico perché lui è stato generoso nei miei confronti. No, è stato molto carino, ma lui è generoso. Lo dico perché è un uomo generoso e perché è un uomo davvero autentico, davvero autentico. Un altro scrittore, un scrittore bravissimo. E quindi ecco, ritornando all'inizio, tu appunto hai spiegato che questo libro l'hai scritto in un periodo di pandemia, quindi anche questo ghiaccio intorno, questo fermarsi intorno ha fatto sì, ci ha fatto rendere questo. Credo di sì, sai c'è stata un'immagine che mi ha colpito e che ha colpito tutte le persone che abitano nella città da cui stiamo parlando, Roma, poi magari è valso per altre metropoli, però quando ho visto l'immagine di Piazza Navona in cui cresceva l'erba tra le pietre, lì ho avuto uno shock, una sorta di agnizione, di epifania. E ho detto ma il mondo senza di noi come sarebbe? E da lì probabilmente, ecco, mentre leggevo della piccola era glaciale, immaginavo questo mondo spopolato, ho cominciato a cercare. Ma la vera posta in gioco, come succede spesso nei romanzi, non è quella che credi di aver trovato all'inizio, è quella che trovi al fondo e probabilmente la vera posta in gioco è quella di cui abbiamo parlato in questo racconto, perché è più giocata sul singolo essere umano Mauro Barbie che sull'impianto storico. Insomma, l'impianto storico diventa, se vuoi, anche un pretesto ed è una metafora che mi esplode tra le mani, perché io non avevo creduto all'inizio che il lago potesse diventare una metafora esistenziale, ma l'ho trovata così. C'è un epigrafe che ho aggiunto dopo, che è la frase di uno scrittore austriaco che si chiama Peter Hunt, che ha vinto un Nobel molto discusso qualche anno fa, che dice, non ignorare mai quel che un albero o uno specchio d'acqua hanno da dirti. E l'ho aggiunta perché avevo capito che in fondo il lago doveva dirgli qualcosa a questo Mauro Barbie, ma mi sono chiesto, andando avanti, ma che gli deve dire? Cosa, certo. Cosa gli sta dicendo questo lago? Ed era esattamente quello, che il lago che aveva davanti era un lago disgelato. Il lago che lui ha dentro era ancora un lago congelato. E io non lo so se questo personaggio si disgela alla fine del libro, non so che sensazione hai avuto tu. Io credo di averlo lasciato sul punto in cui forse quel disgelo è possibile, ma non sono sicuro che lui lo porti a fondo, quel disgelo, perché conosco quel tipico essere umano a cui in parte somiglio, che ha delle profonde timidezze e distanze, sì, perché ho sentito tante volte la voglia di, come posso dire, entrare in una sintonia, in un abbandono nelle relazioni e invece qualcosa mi ha sempre trattenuto. Una paura che dico inestinguibile in quel caso, che è la paura di affidarsi ciecamente a qualcuno, di fidarsi proprio, sai, non dico a scatola chiusa, perché non è una questione di assenza difese. Quando c'è una frase, dico soltanto quest'ultima cosa, ma di Maria Scamuffata, di questo scrittore spagnolo che dice questo provare una vera debolezza per qualcuno significa arrendersi a tutte le contese, io non so se ci sono mai riuscito, capito, ad arrendermi a tutte le contese. Pensi che sia possibile? Eh non lo so, però qualcuno mi dice di sì, ma forse magari è una simulazione, non lo so. E con questa domanda io ti saluto, saluto Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani e ti chiedo di regalarmi una dedica su questo meraviglioso libro. A Sonia, l'inconscio di un lago che disgela, grazie di cuore. Grazie a tutti.